Siccome ero molto attiva politicamente, socialmente, lavoravo una matta, disse se non posso avere figli vuol dire godrò del fatto di non avere questo problema e cercherò di avere una vita come mi piace a me. Il figliolo ti limita, non è che tu puoi fare la sera alle riunioni, torno a mezzanotte il tocco, quindi ti limita molto e ho detto non avendo questa limitazione vuol dire che vivrò la vita che voglio vivere e così non ho avuto grossi problemi.